Capitolo undicesimo Butemont arrivò quel giorno per primo dalla Desforge. Al tè delle quattro, era ancora sola nel suo salotto stile Luigi XVI, che nel marmo e nelle stoffe brillava di lucida allegria, e si alzò con un'aria di impazienza domandandogli «Dunque?». «Dunque», rispose il giovane, «quando gli ho detto che sarei passato di sicuro a salutarvi, ma ha promesso di venire anche lui». «Ti avete fatto capire che oggi sono certa che venga il barone?» «Sì, anzi, mi è parso che si sia deciso per questo», parlavano di Muret. L'anno prima, questi sera un tratto affezionato a Butemont, fino al punto di farselo compagno nei suoi divertimenti, e l'aveva perfino portato da Henriette, tutto contento d'avere uno che si prestasse a rallegrare un po' quell'amicizia di cui era stanco. Di lì, il capo delle sete era alla fine divenuto il confidente del padrone e della bella vedovella. Faceva loro dei piccoli piaceri, discorreva dell'uno all'altra, qualche volta faceva loro far la pace. Nei momenti di gerosia, Henriette, perdendo la prudenza delle donne galanti che fan di tutto per salvare le apparenze, si lasciava andare con lui ad una intimità della quale egli stesso era stupefatto. «La desforge riprese con calore. Lo dovevate portare, sarei stata più sicura. Come si fa? Non è mica colpa mia», riprese lui con un sorriso da buon fanciullone. «Se mi scappa sempre da qualche settimana in qua. Del bene me ne vuol sempre. Se non fosse per lui, starei fresco laggiù». Nel paradiso, infatti, dopo l'ultimo inventario non stava sopra un letto di rose. Aveva un bel difendersi con le piogge. Tutte quelle sete fantasia gli ricadevano sempre addosso, e siccome Butem faceva suo pro di tutto, ad agio ad agio lo allontanava gesuiticamente nel favore dei capi, ed egli si sentiva mancare il terreno sotto i piedi. Mure era seccato di mantenere quel testimone che lo intralciava per rompere, stanco di una familiarità che non gli giovava più, l'aveva bella e condannato. Ma, come faceva sempre, mandava avanti Bourdoncle, facendo sì che costui e gli altri, cui la cosa importava, chiedessero in ogni adunanza che Butemont fosse mandato via, ed egli resisteva a detta sua e difendeva l'amico vigorosamente, anche a rischio di grandissime seccature. «Insomma», disse la Desforges, «aspetteremo! La ragazza, come sapete, deve essere qui alle cinque. Voglio che si trovino faccia a faccia, e così lo scoprirò io il loro segreto!» E ricominciò a spiegare il suo disegno ripetendo febbrilmente che aveva fatto pregare Madame Aurelie di mandarle Denise per un certo mantello che non le andava bene. Quando avesse avuto la ragazza in camera sua, avrebbe trovato il modo di chiamare Muret, e qualcosa sarebbe successo. Butemont, che si era messo a sedere di fronte, la guardava coi suoi begli occhi ridenti, che cercava di far seri. Quell'allegro buontempone, dalla barba nera come l'inchiostro, quel clamoroso gozzovigliatore cui il sangue caldo di Guascone faceva rossa la faccia, pensava che le signore non valevano granché, e quando osavano vuotare il sacco, ne dicevano delle belle. Le amanti dei suoi amici, povere ragazze di magazzino, non avrebbero mai fatto confessioni di quella sorta. Ma, osò domandarle alla fine, che ve ne importa a voi se, ve lo posso giurare, tra loro due non c'è nulla proprio nulla? «Appunto per questo!» esclamò lei. «Dunque, che volete che mi importi delle altre? Quelli sono capricci che si sfogano in mezz'ora!» Parlò di Claire con disprezzo. Le avevano detto che Mure, dopo i rifiuti di Denise, si era buttato su quella rossaccia con la testa da cavallo. Ma con un secondo fine. Perché la faceva restare nel reparto in modo che tutti lo sapessero, e la colmava di regali. E poi, da tre mesi, faceva una vita dissestatissima, sparpagliando i quattrini con una prodigalità di cui tutti parlavano. Aveva comperato una casa una ballerina, manteneva due o tre sgualdrine insieme, e pareva che facessero a chi gli imponeva i capricci più costosi e più stupidi. «E la colpa è tutta di quella ragazza», ripeteva Henriette. «Si rovina con le altre perché lei non lo vuole! Del resto, che me ne importa del suo denaro? Avrei preferito che fosse povero. Voi lo sapete che bene li voglio. Voi che siete diventato il nostro amico!» Si fermò, come soffocata, sul punto di rompere in singhiozzi, e con un moto d'abbandono gli tese tutte e due le mani. Era vero. Adorava Moré per la sua giovinezza e i suoi trionfi. Nessuno l'aveva ancora presa, tutta intera in quel modo, con un fremito del suo corpo e del suo orgoglio, ma al pensiero di perderlo. Sentiva rintoccare la campana funebre dei quarant'anni, e si chiedeva con terrore come avrebbe fatto senza quel grande amore. «Oh, mi vendicherò», mormorava, «mi vendicherò se si comporta male con me». Butemont le teneva sempre le mani. Era bella ancora, ma sarebbe stato un amante da dargli troppo pensiero, e a lui quel genere lì non andava a genio. La cosa, peraltro, meritava che ci riflettesse un po', e forse qualcosa c'era anche da guadagnare, in compenso alle seccature. «Perché non mettete su un magazzino per conto vostro?» chiese lei a un tratto, tirando a sé le mani. Fu un po' meravigliato, poi rispose, «Ma bisognerebbe avere delle somme non piccole. L'anno scorso ci pensai. A Parigi ci sono clienti per uno o per altri due altri grandi magazzini. Soltanto bisognerebbe scegliere bene il posto. Il bon marché al di là del fiume, il Louvre al centro, il Paradiso si prende i quartieri ricchi di Ponente. Resta il Settentrione, verso la Place Clinchy. E avevo così trovato un posto magnifico dietro l'uperà. E così, proruppe in una risata. E così, immaginatevi che fui tanto sciocco da parlarne a mio padre. Già, la mia ingenuità giunse al punto di pregarlo di trovarmi azionisti a Tolosa. E raccontò allegramente come quel buon uomo era andato su tutte le furie, arrabbiato come era nel fondo della sua botteguccia di provincia contro i grandi bazar di Parigi. Il vecchio Boutemont, che non poteva mandare giù quei 3.000 franchi guadagnati dal figlio, aveva risposto che avrebbe dato tutto quanto aveva lui e quanto avevano gli amici suoi ad un ospizio di carità, piuttosto che cooperare con un centesimo alla costituzione di uno di quei magazzini che erano la prostituzione del commercio. E poi, concluse il giovane, ci vorrebbero dei milioni. «E se si trovassero?» disse la desforge. Lui la guardò, divenuto serio a un tratto. Era una parola sfuggita a una donna gelosa? Ma Henriette non gli lasciò nemmeno il tempo di farle una domanda, aggiungendo «Insomma, sapete quanto mi stanno a cuore le vostre cose. Ne riparleremo». Avevano suonato il campanello dell'anticamera. Lei si alzò e anche lui istintivamente allontanò la sua seggiola come se fossero già a tal punto da temere d'essere colti sul fatto. Nel salotto delle allegre stoffe, con tante piante verdi che tra le due finestre c'era quasi un boschetto, non si sentì un alito. Lei aspettava Rita vicino alla porta. «È lui!» sussurrò. Il cameriere annunciò «Messie Mouret, messie de Valagnosch!» Henriette non poteva trattenere un gesto di collera. Perché non era venuto solo? Doveva essere andato a cercare il suo amico per paura di trovarsi solo con lei? Con tutto ciò, ella sorrise e porse la mano a tutte e due. «Come vi fate desiderare da un po' di tempo! E lo dico anche per voi, messie de Valagnosch!» Diventava grassa e ci si disperava, stringendosi sempre più in vestiti di seta nera per dissimulare la pinguedine che cresceva. Ma la sua testa graziosa, coi capelli scuri, conservava l'antica amabile eleganza e Mouret pote dirle finalmente abbracciandola, per così dire, tutta quanta con un'occhiata. «È inutile domandarvi come state! Siete fresca come una rosa!» «Oh, sto anche troppo bene!» rispose lei. «Del resto potevo anche morire e voi non l'avreste saputo!» Anche lei lo guardava e le sembrava nervoso e stanco con le palpebre pesanti e la pelle livida. «Ma io!» aggiunse lei con un tono che cercò di far parere scherzoso. «Io non vi renderò complimento per complimento. Oggi non avete una gran bella cera!» «Lavora troppo!» disse Valagnosch. Mouret non rispose e fece un gesto che non voleva dire nulla. Aveva visto Butemont e lo salutava con un cenno del capo. Quando erano intimi, passava lui a pigliarlo al reparto per andare insieme da Riet durante il lavoro delle ore calde. Ma i tempi non erano più quelli e gli disse a mezza voce «Siete andato via troppo presto! Se ne sono accorti! E laggiù si sono tutti scagliati contro di voi!» Parlava di Bordoncle e degli altri cointeressati come se non fosse lui il padrone. «Ah!» mormorò Butemont un po' inquieto. «Sì, sì, ne parleremo! Aspettami, ce ne andremo insieme!» E Riet si era messa di nuovo a sedere e stava a sentire Valagnosch che le annunziava la visita probabile della De Boff. Ma non le levava gli occhi di dosso a Mouret, il quale ammutolito guardava i mobili e il soffitto. Poi, sentendo che lei si lamentava, ridendo di non aver più che degli uomini al suo tè delle quattro, gli scappò di ridere. «Credevo che ci fosse il barone!» Sentì subito egli stesso la villania della frase e volle correggersi. «Il barone è dei più fedeli, un uomo che sa il fatto suo!» E Riet si era fatta pallida. Lo sapeva che lui veniva soltanto per trovarsi insieme col barone, ma avrebbe potuto fare a meno di gettarle in quel modo la sua non curanza sul viso. La porta si era aperta proprio allora e il cameriere stava dritto dietro di lei quando l'ebbe interrogato con un moto del capo. Le si chinò all'orecchio e le disse a voce bassa «E' per quel mantello. La ragazza è venuta». Ma Riet alzò la voce in modo che la sentissero e tutta la sua bile di gelosia si sfogò nel dire sprezzante «Aspetti! Devo farla entrare nella toilette della signora? No, no! Resti nell'anticamera!» E quando il cameriere se ne fu andato, si rimise a discorrere tranquillamente con Valagnoche. Mure, ricaduto nella sua stanchezza, aveva ascoltato con un orecchio solo, senza capire. Boutemont, a cui l'avventura dava da pensare, rifletteva. Ma quasi subito la porta si riaprì ed entrarono due signore. «Figuratevi!» disse Lamarty. «Scendevo di carrozza quando ho trovato la De Boves sotto le arcate. Già!» disse quest'ultima. «Fa un tempo stupendo e siccome il medico mi ordina sempre di camminare…» Poi, dopo grandi strette di mano, chiese ad Riet. «Prendete forse un'altra cameriera?» «No!» rispose lei meravigliata. «Perché? Nell'anticamera ho visto una ragazza». E Riet la interruppe ridendo. «Non è vero? Tutte queste ragazze di magazzini paiono tante cameriere! È una ragazza che mi viene ad accomodare un mantello!» Mure, che cominciava a sospettare, la guardò fisso. Lei continuò con un'allegria forzata a raccontare come se l'era comprato al Paradiso la settimana prima. «Ma dunque», disse Lamarty, «non vi fate più servire dalla Sauveur?» «Sì, sì, ho voluto soltanto provare. E poi ero abbastanza contenta di un mantello da viaggio che ci avevo comprato tempo fa. Ma questa volta non ho proprio avuto fortuna. Avete un bel dire, i nostri magazzini infagottano, non vestono mica. E lo dico in facciamo e si è Mure. Non vi riuscirà mai vestire una donna che abbia un po' di garbo». Mure non pensò neppure a difendere il suo magazzino. Non le levava gli occhi di dosso. E persuadeva se stesso che lei non avrebbe forse osato tanto. Toccò a Butemot difendere il Paradiso. «Se tutte le signore eleganti che si vestono da noi l'andassero a ridire», replicò sorridendo. «Sentireste che clientela! Ordinateci un vestito dandoci le misure e non sfigurerà accanto a quelli della Sauveur. E lo pagherete la metà. Ma siccome costerà meno, parrà anche che sia meno bello». «Dunque non vi sta bene?» rispose la Debov. «La riconosco ora, la ragazza». «Nell'anticamera è un po' buio». «Anch'io», aggiunse la Martì. «Pensavo dove l'avevo vista una volta. Andate, andate, fate pure con comodo». Henriette fece un gesto disprezzante non curanza. «Ora, ora, c'è tempo». Seguitarono a discutere sui vestiti dei grandi magazzini. Poi la Debov parlò del marito che, diceva lei, era partito per fare un'ispezione al deposito degli stalloni di Saint-Lô. Ed Henriette raccontò che per la malattia di una zia, la Ghibale era stata chiamata da un momento all'altro nella Franca Contea. Del resto, quel giorno non faceva nemmeno assegnamento sulla Bordelè, che ogni fin di mese si chiudeva in casa con una cucitrice per accomodare tutta la roba dei bambini. La Martì pareva intanto agitata da una sorda inquietudine. Quel povero uomo di suo marito, a forza di dar lezione anche in istituti dove commerciavano addirittura sulle licenze liceali, se la passava brutta al liceo Bonaparte. Guadagnava quanto poteva per riparare alle spese che mandavano all'aria la sua casa, e la moglie una sera, che l'aveva visto piangere per paura che lo mettessero a riposo, aveva pensato di rivolgersi ad Henriette affinché intercedesse presso uno dei capi del ministero dell'istruzione che lei conosceva. Henriette, alla fine con due parole, la tranquillizzò. Del resto, Martì doveva venire di persona a sapere cosa sarebbe avvenuto di lui e ringraziarla. «Non vi sentite bene, Messie Mouret?» gli domandò la Debove. «Lavora troppo! Lavora!» ripeteva la gnosce con la sua calma ironica. Mouret, allora arrabbiato contro di sé, si alzò a un tratto e venne a sedersi con tutta la sua grazia consueta in mezzo alle signore. Disse che le novità d'inverno gli davano molto da fare. Parlò di una grossa partita di trine. La Debove gli domandò quanto costavano le trine di Bruges, perché ne voleva comprare. Era ridotta a risparmiare i due franchi di una carrozza e tornava tutte le volte a casa sentendosi male per le cose che ammirava nelle vetrine. Col suo mantello, che aveva già due anni, si provava fantasticando sulle sue spalle da regina tutte le stoffe più care che vedeva e quando si risvegliava vestita dei suoi cenci, senza speranza di poter mai soddisfare la sua passione, le pareva che gliele strappassero di dosso. «Il signor barone Hartman!» annunziò il cameriere. Henriette osservò che Mouret strinse la mano al barone tutto contento. Costui salutò le signore e guardò il giovane con quell'occhio arguto che di tanto in tanto illuminava la sua larga faccia di Alsaziano. «Sempre tra i cenci!» mormorò sorridendo. Poi, come familiare della casa, si permise di aggiungere «Che graziosa ragazza c'è nell'anticamera!» «Chi è?» «Oh, nessuno!» rispose la Desforge con la sua voce maligna. «Una ragazza del magazzino che aspetta!» Ma la porta restava socchiusa. Il domestico serviva al tè. Usciva, rientrava, posava sul tavolino le tazze cinesi, poi dei piatti di sandwich e di biscotti. Nel vasto salotto una luce viva, raddolcita dalle piante verdi, accendeva le dorature carezzando allegramente la seta dei mobili. Ed ogni volta che la porta si apriva, si scorgeva un angolo oscuro dell'anticamera, che non aveva luce se non attraverso vetri opachi. Denise era lì, in piedi. C'era una cassa panca coperta di cuoio, ma non ci si voleva sedere per un senso d'orgoglio. Da una mezz'ora era là, senza fare né un gesto né una parola. Le signore e il barone l'avevano squadrata, passando. Ora la voce del salotto le giungeva a soffi leggeri. Tutto quel lusso amabile la schiaffeggiava con la sua non curanza, ed ella non si muoveva. A un tratto, attraverso la porta, riconobbe Muret. Anche egli alla fine aveva indovinato che era lei. «E' una delle vostre ragazze?» domandò il barone. Muret era riuscito a nascondere il suo gran turbamento. Soltanto la voce li tremava per l'emozione. «Di sicuro. Ma non so chi è». «È la biondina dell'abbigliamento», rispose cortesemente Lamarty. «La vice, se non sbaglio». E Riet lo guardava. «Ah», disse lui, e non altro, e cercò di parlare delle feste che si davano per il re di Prussia, che era allora a Parigi. Ma il barone, maliziosamente, fece ricadere il discorso sulle ragazze dei grandi magazzini. Fingeva di voler aver notizie e interrogava. Di dove venivano di solito? Erano scostumate come si andava dicendo? Di qui incominciò una discussione. «Davvero?» ripeteva. «Voi credete che siano oneste?» Muret difendeva la loro virtù con un convincimento che faceva ridere Vallagnos. Allora Butemont si mise di mezzo per salvarlo. «Dio mio! Ce n'era d'ogni sorta delle buone e delle cattive, ma del resto si facevano sempre migliori. Prima non c'erano che le ragazze povere e quasi senza famiglia. Ora, per esempio, parecchi in Rue de Sèvres si vedeva che tiravano su le figlie per il bon marché. Insomma, quando volevano essere oneste, potevano, perché non erano come le operaie che sono obbligate a trovarsi pane e tetto. Avevano tavola e stanza e la loro vita, per quanto certo non fosse bella, era almeno sicura e tranquilla. Il peggio stava in quella loro condizione mal definita tra la bottegaia e la signora, e buttate così nel lusso, spesso con poca o niente istruzione, prendendo per via della gente che frequentavano modi e gusti superiori al loro stato, formavano un ceto singolare e senza un proprio nome. Le loro miserie e i vizi provenivano da ciò. «Io», disse la Debove, «non conosco gente più antipatica. Delle volte verrebbe voglia di pigliarle a schiaffi». E le signore sfogarono i loro rancori. Davanti ai banchi dei magazzini si divorarono tra loro donne in una rabbiosa rivalità di denaro e bellezza. «Via, via», concluse Riette, «sono tutte delle disgraziate che si vendono come tutta l'altra roba dei magazzini». Mouret ebbe la forza di sorridere, il barone stava a guardare, commosso dal bel modo con cui sapeva frenarsi, e per questo mutò discorso, tornando a parlare delle feste per il re di Prussia. «Sarebbero stupende, tutti a Parigi ci dovevano guadagnare». Henriette stava zitta e pensava, divisa tra il desiderio di lasciare ancora nell'anticamera Denise e la paura che Mouret ormai prevenuto se ne andasse. Dovette perciò alzarsi. «Permettono?» «Ma vi pare», rispose Lamarty, «farò io da padrona di casa». Si alzò, prese il tè e riempì le tazze. Henriette si era voltata verso il barone. «Restate un altro po', non è vero?» «Sì, devo parlare con monsieur Mouret. Invaderemo il vostro salottino». Ed ella uscì. Il suo vestito di seta nero dette strisciando sulla porta un fruscio, come di lucertola tra le foglie. Il barone fece subito in modo di portarsi via Mouret, lasciando le signore a Butemot e a Valagnosh. Poi, a voce bassa, si misero a discorrere nel vano della finestra del salotto accanto. Era un nuovo affare. Mouret da gran tempo pensava a effettuare il suo antico disegno, invadendo l'intero isolato nel quale era il paradiso da Rue Monsigny a Rue de la Michaudière e da Runeau Saint-Agustin a Rue du Dix-de-Sambre. Su quest'ultima c'era ancora, nel grande quadrato, un vasto terreno che non era suo, e ciò bastava sciupare il suo trionfo. Era tormentato dal bisogno di compiere la sua conquista, di innalzare là, come un'apoteosi, una facciata monumentale. Finché l'androne maggiore si trovava in Runeau Saint-Agustin, in una buia via della vecchia Parigi, l'opera sua non era né compiuta né logica. Lo voleva mettere in mostra davanti alla nuova Parigi, sopra uno di quei nuovi viali dove passava sotto la luce del sole la moltitudine del secolo che giungeva alla fine, e già vedeva il nuovo edificio ergersi e dominare come il palazzo gigantesco del commercio, gettando sulla città più ombra dell'antico Louvre. Ma fino ad allora si era scontrato con la cocciutaggine del credito fondiario, che non voleva abbandonare la prima idea di costruire su quei terreni un grande albergo. I piani erano già pronti. Per cominciare i lavori non aspettavano altro che fosse libera Rue du Dix-de-Sambre. Finalmente, con un ultimo sforzo, Mouret aveva quasi convinto il barone Hartmann. «Bene», cominciò a dire questi. «Si è tenuta ieri un'adunanza, e ho pensato di vedervi perché desideravo tenervi al corrente. Seguitano a resistere». Mouret ebbe una specie di moto nervoso. «Hanno torto, torto marcio! Che dicono loro? Dio mio, dicono ciò che vi ho detto anch'io, e che anche ora, in fondo in fondo, la facciata non è che un ornamento. Il nuovo fabbricato non aumenterebbe che di un decimo la superficie dei vostri magazzini. E vuol dire buttar via dei gran bei quattrini soltanto per la pubblicità». Mouret non si contenne. «Pubblicità! Pubblicità! Ma questa pubblicità, a ogni modo, sarà di pietra e ci sotterrerà tutti! Capite una volta quel che vuol dire fare affari dieci volte di più! In due anni si ripigliano le spese. Che importa che sia, come dite voi, terreno perduto, se questo terreno ci rende un frutto enorme. Vedrete che ressa quando i clienti non si accalcheranno più in Rune of Saint-Agustin e potranno liberamente passare per una strada dove possono trottare sei carrozzi in fila». «Sicuro?» rispose il barone, ridendo. «Ma voi siete un poeta nel vostro genere! Ve l'ho già detto altre volte. Quei signori credono che sarebbe pericoloso allargare ancora i vostri affari. Vogliono aver prudenza per voi». «Come? Prudenza?» Non ci capisco un'h. I conti sono lì e non dimostrano l'aumento continuo della vendita. Da principio, con un capitale di 500.000 franchi, facevo per 2 milioni di affari. Il capitale era investito quattro volte. Poi è divenuto di 2 milioni. L'ho investito quattro volte. Poi è divenuto di 4 milioni. L'ho investito dieci volte. E ho fatto per 40 milioni d'affari. Alla fine, dopo questi aumenti continui, ho visto all'ultimo inventario che faccio un commercio di 80 milioni. E il capitale, che non è aumentato perché è soltanto di 6 milioni. E così è stato investito in mercanzie che sono passate sui banchi 12 volte. Alzava la voce, picchiando le dita della destra sul palmo della sinistra, contando i milioni come se schiacciasse noccioline. Il barone lo interruppe. «Lo so, lo so. Ma non potete mica sperare di seguitare sempre così». «E perché no?» disse Murray ingenuamente. «Non c'è nessuna ragione per fermarsi. Il capitale può passare sui banchi fin 15 volte. L'ho detto da un pezzo. Anzi, in certi reparti passerà 25 e 30 volte. E poi, e poi, qualche modo si troverà per farlo passare anche più alla svelta». «Volete dunque bere alla fine il denaro dei parigini come si beve un bicchiar d'acqua?» «Sicuro. Parigi è delle donne. E le donne non sono tutte nostre?» Il barone gli pose le due mani sulle spalle, guardandolo con aria paterna. «Su, voi siete un buono e bravo figliole e vi voglio bene. Non vi si può resistere, combatteremo sul serio. E spero che capiranno. Fino ad ora non abbiamo che da congratularci con voi. I dividendi lasciano stupefatta la banca. Dovete aver ragione voi. È più sicuro mettere il denaro nei vostri magazzini che rischiarli in quell'albergo, che può andar bene e può andar male». Muret si quietò. Ringraziò il barone, ma senza il solito impeto d'entusiasmo. E questi lo vide volgere gli occhi verso la porta della stanza accanto, ripreso dalla sorde inquietudine che nascondeva. Balagnosh, vedendo che non ragionavano più d'affari, si era ravvicinato e restò in piedi accanto a loro ad ascoltare il barone che col suo fare galante da vecchio viver mormorava «Ditemi un po'. Si vendicano?» «Chi?» domandò Muret imbarazzato. «Chi?» «Oh, bella! Le donne. Si sono stancate d'essere vostre schiave e sono diventate le vostre padrone. Vi sta bene». Si mise a scherzare. Conosceva gli amorazzi del giovane. Quel quartierino comprato alla ballerina, le somme enormi spese con ragazze raccattate per le trattorie lo rallegravano tutto come una scusa alle pazzie che aveva fatte lui stesso ai suoi tempi. La sua vecchia esperienza ci godeva. «Ma io non vi capisco», ripeteva Muret. «Via, via!» riprese il barone. «Sono sempre loro che hanno ragione alla fine. E per questo, dicevo tra me, non è possibile, si vanta. Non è di ferro neanche lui. Ed eccovi belle caduto. Fate quel che volete delle donne. Servitevene, come di una miniera di carbon fossile. Poi viene il giorno che sono loro quelle che si servono di voi e vi fanno buttare fuori quanto avete preso a loro. State attento, perché le donne vi succhieranno più sangue e denaro che non abbiate fatto voi». Rideva più sonoramente e Balagnos, lì accanto, sogghignava senza aprir bocca. «Dio mio! Bisogna provare un po' di tutto», confessò Muret, fingendo di essere allegro anche lui. «Il denaro a che serve se non si spende?» «In questo son d'accordo», rispose il barone. «Divertitevi, divertitevi! Non sarò davvero io il predicatore che vi insegni la morale, né tremerò per i gravi affari che vi abbiamo confidati. Bisogna svagarsi un po' e la testa dopo è più fresca. E poi non dispiace rovinarsi quando ci si può rifare in quattro e quattrotto. Ma se il denaro non conta, ci sono però dei dolori». Si fermò. Il suo sorriso si fece triste. Il ricordo di pene sofferte si mescolò con l'ironia del suo scetticismo. Aveva osservato il duello tra Henriette e Muret, da uomo curioso di vedere ancora combattersi negli altri le battaglie del cuore, e sentiva che la crisi era venuta, sapendo la storia di quella Denise che aveva vista nell'anticamera, indovinava il dramma. «Soffrire, poi, non è fra le mie consuetudini», disse Muret, col tono della spacconata. «Mi basta pagare». Il barone lo guardò per qualche secondo in silenzio. Senza voler insistere nella sua discreta allusione, aggiunse lentamente «Non vi fate più cattivo di quel che siete, altro che il denaro?». «C'è il caso di lasciarci la pelle, amico mio». Si interruppe per domandare, ridendo di nuovo «Non è vero, monsieur Valagnos, che accade qualche volta così?». «Dicono, signor barone», si contentò di rispondere l'altro. Proprio in quel momento la porta della stanza s'aprì. Muret, che stava per rispondere, sussultò leggermente. I tre signori si voltarono. Era la desforge, allegrissima in apparenza, che metteva fuori la testa, chiamando frettolosamente «Messie Muret! Messie Muret!». Poi, quando vide gli altri due «Oh, permettete, signori, che vi porti via per un momento, monsieur Muret! Non mi pare di chiedere troppo se desidero qualche consiglio dopo che mi ha venduto un mantello orribile. E questa ragazza è una stupida che non ha un'idea nella testa. Su, andiamo, vi aspetto». Egli titubava, non osando avventurarsi alla scenata che prevedeva, ma dovette obbedire. E il barone, con la sua aria paterna insieme e canzonatrice, «Andate, andate! La signora ha bisogno di voi!». Muret la seguì. Entrò e credette di sentire il riso stridente di Valagnoche attenuato dalle tende. D'altra parte, non ne poteva più. Da quando Henriette se n'era andata dalla sala e sapeva che Denise era là, tra le mani della gelosa, egli sentiva un'ansietà crescente, un tormento nervoso che gli faceva tendere ogni tanto l'orecchio, quasi trasalendo a un suono lontano di pianto. Che poteva mai inventare quella donna per torturarla? E tutto l'amor suo, quell'amore che ancora non riusciva a capire, accorreva dove era la fanciulla come un aiuto e una consolazione. Non aveva mai amato in quel modo, né provato mai quella voluttà nel soffrire. I suoi affetti di uomo che affretta, la stessa Henriette così elegante, così graziosa e che lusingava il suo orgoglio, non erano stati in fondo che divertimento, o se mai desiderio di unire all'utile il piacevole. Usciva di casa delle sue amanti e tornava nella sua stanza di scapolo, senza mai un rimpianto né un pensiero, contento della sua libertà. Ora, invece, il cuore gli batteva dall'angoscia. La sua vita non era più sua. Nel suo grande letto solitario non trovava più il sonno. Anche in quel momento non pensava che a lei e preferiva essere lì a proteggerla per quanto seguisse l'altra con una gran paura di qualche scena dolorosa e sgradevole. Attraversarono dapprima la camera da letto silenziosa e vuota. Poi, la desforge, aperta una porta, entrò nella toilette e Muret la seguì. Era una stanza abbastanza grande, addobbata di seta rossa, ammobiliata con una toilette di marmo e un armadio attreante, con grandi specchi. La finestra dava sulla corte, ed era già buio. Avevano perciò acceso già due fiammelle di gas che sporgevano dai loro bracci lucidi, a destra e a sinistra dell'armadio. «Guardiamo un po', disse Riet. Forse così sta meglio». Nell'entrare, Muret aveva trovato Denise dritta in mezzo alla luce viva. Era pallidissima, modestamente stretta in una giacchetta di cashmere con un semplice cappellino, e teneva su un braccio il mantello comprato al Paradiso. Quando vide il padrone, le sue mani tremarono lievemente. «Facciamo giudice, monsieur Muret?» riprese Henriette. «Aiutatemi!» E Denise, avvicinandosi, dovette rimetterle addosso il mantello. La prima volta che gliel'aveva provato, aveva puntato degli spilli sulle spalle, che non le andavano bene, e Henriette si voltava e rivoltava guardandosi nello specchio. «Può stare? Ditelo liberamente!» «È vero», disse Muret per farla finita. «Il mantello è fatto male. È una cosa da nulla. La signorina vi prende la misura e se ne fa fare un altro. No, no, voglio questo. Ne ho bisogno subito», riprese lei vivacemente. «Mi stringe qui al petto e là, dietro il collo, mi fa una gobba». Poi, con la sua voce aspra, «Con lo stare a guardare, signorina, non si corregge il difetto. Cercate e trovate qualcosa. Sta a voi». Denise, senza aprire bocca, ricominciò ad appuntare gli spilli. Fu un lavoro lungo. Bisognava passare da una spalla all'altra. Dovette perfino abbassarsi un po' e quasi inginocchiarsi per tirare giù il davanti del mantello. La desforge la lasciava fare e serbava l'aspetto arcigno di una padrona difficile da contentarsi. Tutta contenta di umiliare la giovane a quel servizio di serba, le dava ordini brevi, spiando le minime contrazioni nervose sul viso di Muret. «Qui uno spillo. Eh, no, non qui. Qui, accanto alla manica. Non capite. Così non va. Vedete? Che la tasca sta male. Da capo. Attenta, vi dico. Ora mi bucate». Due volte Muret cercò vanamente di metterci bocca per far cessare quella scena. Il suo cuore sussultava in quell'umiliazione del suo amore e amava Denise anche di più, con una tenerezza commossa davanti a quel coraggioso e dignitoso silenzio che ella serbava. Se le mani della fanciulla tremavano ancora un po', trattate in quel modo, di fronte a lui sopportava i guai del mestiere con la fiera rassegnazione di una ragazza piena di animo. Quando la desforge capì che non si sarebbero traditi, cercò un'altra via e si mise a sorridere a Muret trattandolo manifestamente da amante. Allora, mancando gli spilli, «Guardate, caro, guardate là nella scatolina d'avorio sulla toilette. È vuota? Abbiate pazienza. Guardate un po' sul camino in camera da letto. Laggiù, sapete, vicino allo specchio». E così lo trattava come se egli fosse familiare della camera. E vi avesse più volte dormito e sapesse bene dove erano i pettini e le spazzole. Quando l'ebbe portato gli spilli, Harriet li prese a uno a uno, forzandolo a star lì dritto accanto a lei e guardandolo, parlandogli come se Denise non fosse presente. «Eppure Gobba non mi pareva d'essere. Datemi la mano, tastatemi le spalle, fatemi il piacere. Sono fatta proprio così?». Denise aveva alzato lentamente gli occhi, più pallida ancora, e s'era rimessa ad appuntare zitta zitta gli spilli. Muret non vedeva che i folti capelli biondi di lei attorcigliati sul collo gentile, ma a quel leggero brivido che li scuteva, gli pareva di scorgerle la vergogna e il dolore sul viso. Ora sì che lei l'avrebbe respinto, rimandandolo da quella donna che non nascondeva nemmeno la sua teresca in faccia alla gente, e si sentiva una gran voglia di menare le mani e di picchiare in riet. Come farla tacere? Come dire a Denise che lui l'adorava, che lei era il suo unico pensiero, che le sacrificava tutti i suoi vecchi amorazzi in un giorno? Una sgualdrina avrebbe avuto più rispetto di se stessa, né avrebbe osato lasciarsi andare, come quella borghese, a tali confidenze di cattivo gusto. Tirò a sé la mano e fece un passo indietro dicendo «Il torto è vostro, signora mia, perché vi ostinate quando io stesso confermo che il mantello è fatto male». Stettero tutti zitti. Una delle fiammelle del gas si bilava, e nell'aria calda e pesante della stanza non si sentiva più che quel soffio ardente. Gli specchi dell'armadio riflettevano larghe strisce di vivo chiarore sulle tende di seta rossa, sulle quali ballavano le ombre delle due donne. Una boccetta d'acqua di colonia, che era rimasta stappata, esalava l'odor vago di un mazzo di fiori che appassisca. «Ecco, signora, tutto quel che ho potuto fare io», disse finalmente Denise, alzandosi. Non ne poteva più. Due volte si era conficcata gli spilli nelle mani, come accecata, con gli occhi smarriti. Anche lui era d'accordo. L'aveva fatta venire per vendicarsi dei suoi rifiuti, mostrandole che altre donne l'amavano. E questo pensiero le gelava il sangue. Non si ricordava d'aver avuto mai bisogno di tanto coraggio, neppure nelle ore terribili della sua vita, quando il pane le era mancato. Non bastava sentirsi umiliata. Bisognava vederlo quasi tra le braccia di un'altra, come se lei non fosse stata lì. Harriet si guardava allo specchio. Da capo disse parole scortesi. «Io credo che abbiate voglia di fare confusione. Sta peggio di prima. Guardate come mi torna davanti». «Fai una balia». Denise non seppe più trattenersi. «La signora è un po' grassa. Quando avremmo fatto ben bene non la potremmo far dimagrire». «Grassa, grassa», ripetea Harriet, che si faceva pallida a sua volta. «Siete anche insolente, signorina. avete proprio ragione voi di farvi giudice delle altre». Tutte e due, l'una in faccia all'altra, frementi, si guardavano. Non erano più la signora e la ragazza di magazzino. Erano due donne fatte uguali dalla loro rivalità. L'una s'era con furia levata al mantello gettandolo sopra una seggiola. L'altra buttava a caso sulla toilette gli spilli che aveva ancora in mano. «Io mi meraviglio», riprese Harriet, «che Monsieur Mouret tolleri questa insolenza. Credevo che foste più severo con i vostri impiegati». Denise era tornata nella sua calma coraggiosa e rispose dolcemente «Se Monsieur Mouret non mi licenzia, vuol dire che non ha da farmi nessun rimprovero. Se Monsieur Mouret me lo ordina, io sono pronta a domandarle scusa». Mouret stava a sentire non sapendo come finire quella contesa che lo stupefaceva e addolorava al tempo stesso. Aveva orrore di quelle liti fra donne, così aspre che mettevano a disagio lui sempre in cerca di eleganza e di grazia. Harriet voleva strappargli una parola di censura per la ragazza e, siccome incerto ancora non apriva bocca, lo frustò con un'ultima ingiuria. «Benone, dunque io devo in casa mia sopportare le insolenze delle vostre amanti di una sgualderina che avete raccattato sul marciapiede!» Due grosse lacrime caddero dagli occhi di Denise. Le tratteneva da un pezzo, ma ora si sentiva venire meno sotto il peso di quell'insulto. Quando la vide piangere, senza rispondere alla violenza con la violenza, chiusa in una dignità muta e disperata. Mure non esitò più. Il suo cuore volò da lei con un'immensa tenerezza. Le prese le mani e balbettò «Andate via! Andate, figliola, e scordatevi di questa casa!» Harriet, sbalordita, strozzata dalla rabbia, li guardò. «Aspettate!» disse egli, ripigliandolo a sé. «A voi il mantello. La signora se ne comprerà un altro altrove!» «E non piangete più, ve ne prego! Voi sapete quanta stima ho di voi!» L'accompagnò fino alla porta e la richiuse subito. Lei non aveva detto una parola. Soltanto una fiamma rosea. Lei era salita alle guance, intanto che i suoi occhi si bagnavano di nuove, dolcissime lacrime. Harriet, che si sentiva soffocare, si premeva il fazzoletto sulle labbra. Così, dunque, aveva ottenuto l'opposto di ciò che voleva. Era rimasta presa dal tranello che aveva teso, e si lamentava di aver spinto le cose a quel punto, torturata dalla gelosia. Lei abbandonata per una creatura come quella. Vedersi disprezzata davanti a lei. Il suo orgoglio soffriva più che il suo amore. Dunque, è proprio questa la ragazza che voi amate?» domandò dolorosamente, quando furono soli. Mouret non rispose subito. Passeggiava a passi lenti come preso da una violenta commozione. Finalmente si fermò e, garbatamente, con voce che tentava di mantenere tranquilla, disse con semplicità «sì». La fiammella del gas seguitava a sibilare nell'aria pesante. I riflessi degli specchi non erano più traversati dal moto delle ombre, e la stanza pareva nuda nella sua grave tristezza. Henriette si lasciò andare su di una seggiola, torcendo il fazzoletto tra le sue dita febbrili e ripetendo fra i singhiozzi «Dio mio! Come sono disgraziata!». Lui la stetta a guardare pochi secondi, immobile. Poi, tranquillamente, se ne andò. Lei, rimasta sola, pianse nel silenzio, davanti agli spilli seminati sulla toilette e per terra. Quando Mouret rientrò nel salottino, non vi trovò più che Valagnoche. Il barone era tornato dalle signore. Sentendosi ancora emozionato, si mise a sedere in fondo alla stanza, sopra un canapè, e l'amico, vedendolo pallido, venne caritatevolmente a porglisi davanti per nasconderlo agli sguardi curiosi. Da principio si guardarono, senza dire una parola. Poi Valagnoche, che pareva dentro di sé un po' troppo contento del turbamento di Mouret, gli domandò con la sua voce canzonatrice «Ti diverti?» Mouret parve lì per lì non capisse. Ma quando si fu ricordato le loro conversazioni di una volta sulla stolta inutilità della vita, rispose «Ma sicuro? Non ho mai vissuto tanto come è ora!» «Non mi canzonare, amico mio, quando si muore dal dolore, le ore passano più veloci che mai!» Abbassò la voce e continuò scherzosamente sotto le sue lacrime mal asciugate. «Tanto tu sei tutto, non è vero?» M'hanno fra tutte e due lacerato il cuore. Eppure, le ferite che m'hanno fatto sono quasi dolci quanto le carezze. «Sono stanco. Non ne posso più, non importa. Non puoi credere quanto mi piaccia la vita. Oh, la vincerò prima o poi con la ragazza che non ne vuol sapere di me!» Valagnoche disse semplicemente «E dopo? Dopo? Me la godrò? Non basta? Ti credi forte perché t'affanni a non far quel che fanno tutti e non vuoi soffrire? Ma l'ingenuo sei tu. Tenta di desiderarne una e di possederla. Sarai largamente compensato in un minuto di tutti i dispiaceri». Ma Valagnoche esagerava il suo pessimismo. Una volta che il denaro non dava tutto quel che si desidera, perché lavorare? Lui, se si fosse accorto che coi milioni non si può nemmeno comprare la donna che ci piace, avrebbe chiuso bottega e si sarebbe sdraiato in santa pace senza più muovere un dito. Murray, ascoltandolo, si rabbuiava, poi l'interruppe violentemente ridestandosi in lui l'antica fede. La credenza che la volontà è onnipotente. La voglio, l'avrò. È una cosa semplicissima questa. E se mi sfugge, vedrai che cosa saprò far io per guarirmi. In ogni modo sarà un bel vedere. Tu non ci capisci nulla, amico mio, altrimenti sapresti che l'azione ha in sé il suo premio. Fare, operare, opporsi agli eventi, vincerli, esserne vinto. Sta qui tutta la gioia e la salute degli uomini. Anche questa è una maniera per stordirsi, mormorò l'altro. Sarà, ma io preferisco stordirmi, crepare per crepare. Preferisco crepare di passione piuttosto che di noia. Si misero a ridere tutti e due rammentandosi le vecchie dispute del collegio. Il Vallagnosce si mise allora a dimostrare pacatamente l'insulsaggine delle cose. Nel vantare continuo l'inerzia e il vuoto della sua vita, egli ci metteva un po' di fanfaronate. Già, domani al ministero si sarebbe annoiato come ci si era annoiato oggi. In tre anni gli avevano dato un aumento di 600 franchi, ed ora ne aveva 3600, neppure tanto da fumare dei sigari a modo. Era una cosa sempre più uggiosa e grave. Se non si ammazzava anche lui come tanti altri, era per evitare quello scomodo. Muret gli domandò allora del suo matrimonio con Mademoiselle de Boves, ed egli rispose che, per quanto quella benedetta zia non volesse ancora morire, stava per essere concluso, almeno così credeva, perché i parenti si erano già intesi, e lui era pronto a far quel che gli dicevano. Perché affaticarsi a volere o a non volere, una volta che nulla andava nel verso dei propri desideri? Citò, per esempio, il suo futuro suocero, che aveva creduto di trovare nella Ghibal una bionda indolente, tanto per divertircisi un'ora, ed era invece spinto avanti da lei a frustate come un cavallo vecchio del quale giovi consumare le ultime forze. Intanto che lo credevano occupato nella rassegna degli stalloni di Saint-Law, lei lo rifiniva in una casuccia presa da lui in affitto a Versailles. «È più contento di te, però!» disse More, alzandosi. «Ah, lui, sicuro!» confessò Valagnos. «Forse, forse non c'è che il male che sia un po' divertente!» More si era ricomposto. Pensava ora ad andarsene, ma non voleva fare la figura d'uno che scappa, e per questo rientrò nella sala con l'amico, scherzando con lui, col proposito di prendere una tazza di tè. Il barone gli domandò se il mantello stava bene, alla fine, e lui, senza turbarsi, rispose che aveva lasciato il pensiero di accomodarlo. Parve stanco, e mentre Lamarty si affrettava a versargli il tè, la Debove cominciò ad accusare i grandi magazzini di far sempre i vestiti troppo stretti. Finalmente si poteva mettere a sedere accanto a Butemont, che non si era mosso. Gli altri non badarono più a loro, e a un tratto, mentre costui lo assaliva di domande per sapere come era andata, non aspettò, come si era proposto dapprima, di essere con lui per la strada, e gli disse che quei signori del Consiglio volevano a ogni costo privarsi dei suoi servigi. Tra una frase e l'altra sorseggiava il tè, seguitando ad affermare che era dispiaciutissimo. «Oh, era stata una scena seria. Era uscito dal Consiglio furibondo. Ma che farci?» Non poteva rompere con gli altri per una semplice questione di personale. «Butemont, pallidissimo, dovette anche ringraziarlo». «Che mantello che è questo!» osservò Lamarty. «Eriette non torna più». Quell'assenza così lunga incominciava a dar pensiero a tutti, ma proprio in quel momento la desforge ricomparve. «Non riesce neanche a voi?» esclamò allegramente la Debove. «Messieu Muret ci ha detto che non vi riusciva di accomodarlo». Eriette finse di cascar dalle nuvole. «Messieu Muret l'ha detto per ridere. Starà anzi benissimo». Pareva calma e sorridente. Certo, si era rinfrescate le palpebre, perché erano fresche e nemmeno un po' rosse. Mentre dentro sanguinava ancora, trovava la forza di nascondere la tortura sotto la maschera della sua disinvolta eleganza, e col suo sorriso, solito, offrì i sandwich a Balagnos. Soltanto il barone, che la conosceva bene, osservò la leggera contrazione delle labbra di lei e il fuoco sinistro che non le era riuscito spegnere nel fondo degli occhi. Indovinò tutto. «Dio mio, ognuno ha i suoi gusti», disse la Debove, prendendo anche lei un sandwich. «Conosco delle donne che non comprerebbero nemmeno un nastro altrove che all'ouvre. Altri invece sono tutte per il bon marché. Deve essere questione di… temperamento». «Il bon marché è un po' troppo per le provinciali», mormorò Lamarty. «E a l'ouvre c'è tanta folla». Le signore ricaddero nel solito discorso dei grandi magazzini. Muret dovette anche lui dire quel che ne pensava. Tornò in mezzo e ostentò ad essere imparziale. Il bon marché era una gran buona casa, solida, rispettabile, ma il louvre aveva certo dei clienti più scelti. «Insomma, per voi è meglio il paradiso delle signore», disse il barone sorridendo. «Sì», rispose tranquillamente Muret. «Da noi le signore sono più… accarezzate». Tutte le donne presenti furono di quel parere. Era vero. Al paradiso erano trattate con più garbo. Si sentivano lusingate continuamente, in modo tale che anche le più forti ci restavano. Il mirabile successo del magazzino proveniva da quella seduzione. «A proposito», domandò Henriette, che voleva far vedere d'essere padrona di sé. «E della mia protetta, che ne avete fatto, Messe Muret? Mademoiselle de Fontenayel?» E volgendosi alla Marti. «Una marchesa, niente meno. Una povera ragazza che non aveva da mangiare. Ma», disse Muret, «guadagna tre franchi al giorno a cucire dei fascicoli di campioni, e credo che mi riuscirà di maritarla con uno dei miei garzoni». «Dio ce ne liberi!», esclamò la Debove. Egli la guardò e riprese con voce pacata. «E perché? Non è meglio sposare un bravo garzone, un buon lavoratore, che correre il rischio di essere raccattata dal marciapiede da un fannullone qualunque». Valagnoche volle scherzare. «Non lo fate chiacchierare troppo, madame Debove. Sarebbe capace di dirvi che tutte le vecchie famiglie della Francia debbono mettersi a vendere mercerie». «Ma, ribattemore, per molte sarebbe in fin dei conti una fine onorevole», risero tutti. Il paradosso parve un poco troppo arrischiato. Continuò a celebrare l'aristocrazia del lavoro, come diceva lui. Un po' di rosso aveva colorato le gote della Debove, furibonda per la misera vita che le toccava condurre. Lamartine, invece, approvava, presa dal rimorso pensando al suo povero marito. Per l'appunto, il cameriere aprì la porta al professore che la veniva a prendere. Era più magro, più smunto di prima per tutti quei suoi pensieri, stretto nel suo soprabito lustro. Quando ebbe ringraziato la desforge di aver parlato per lui al ministero, gettò su mure un'occhiata da uomo pauroso che si imbatte nel male del quale deve morire. E fu meravigliato che quegli gli rivolgesse la parola. «Non è vero, signore, che il lavoro è una gran bella cosa? Il lavoro è il risparmio», rispose con un leggero brivido di tutta la persona, «Aggiungete il risparmio». Butemont intanto non si era mosso dalla poltrona. Le parole di Mureli ronzavano ancora nell'orecchio. Si alzò alla fine e venne a dire piano del riet... «Sapete, m'ha messo alla porta. Oh, gentilmente, gentilissimamente. Ma mi sbattezzo se non se ne pente. Ho belle pensato l'insegna, o quatre saisons, e mi pianto accanto all'opera». Lei lo guardava e gli occhi le si intorbidirono. «Fate eppure affidamento su di... aspettate». E senza perdere tempo trasse il barone nel vano di una finestra. Lì, su due piedi, gli raccomandò Butemont, dipingendoglielo come uno che avrebbe messo sottosopra Parigi con un negozio per conto suo. Quando poi gli parlò di una raccomandazione, il barone, per quanto non si meravigliasse più di nulla, non poté trattenere un gesto di spavento. Era il quarto che lei gli raccomandava e capiva di diventare ridicolo. Ma non disse addirittura di no, anzi, il concetto di aiutare uno che facesse concorrenza al paradiso delle signore non gli dispiaceva. Aveva già sperimentato questo sistema in materia di banche, si suscitavano dei concorrenti per liberarsi di altri. E poi a tutto quel movimento ci si divertiva. Promise di pensarci su. Harriet si accostò a Butemont e gli disse in un orecchio «Bisogna che stasera parliamo un po' insieme. Verso le nove, non mancate, il barone è dalla nostra». La sala suonava intanto di voci. Mouret, sempre in piedi tra le signore, era tornato quello di prima e con garbo si difendeva dall'accusa di rovinarle a forza di cenci. Offriva di provare quei numeri alla mano che faceva loro risparmiare il 30% ogni compera. Il barone lo guardava, ammirandolo da capo con la complicità di un Don Giovanni invecchiato. Il duello era bello e finito. Harriet ci aveva rimesso lei, non era lei quella che doveva venire a vendicare le altre. E gli parve rivedere il profilo modesto della ragazza che già aveva vista nell'attraversare l'anticamera. Era là, paziente, e la sola che fosse da temere.